Amici di Android Blog, area di grandi novità allo stand Wiko del Mobile World Congress 2014, dietro questo vetro potete vedere il nuovo Mazing che potrebbe dare uno scossone alla gamma smartphone probabilmente mondiale. In quanto parliamo di un device 4G LTE con un display da ben 5.2 pollici full HD e un processore octa-core da 2 GHz e una fotocamera posteriore da ben 20 megapixel. Una capacità di memoria interna di 32 GB e 2 GB di RAM equipaggiato con Android 4.4 KitKat. Purtroppo questo è solo un modello da esposizione in quanto ancora non è pronto per l'utilizzo quotidiano ma possiamo vedere già alcune linee estetiche come il body in metallo, quello che ci sembra metallo e il bordo ormai classico in alluminio che equipaggia la gamma Wiko. e non vediamo l'ora di saperne di più su questo interessante terminale.